Ops, non ti addormentare, Margherita. Ci penso io a raddrizzare questa Margherita. Pala! Attimo lavoro, cuccioli. Grazie, Ryder. Vi aiuterei a piantare i fiori anch'io, ma... Ma cosa, Chase? Sono un tantino allergico. Vi aiuta io! Vi aiuta io! Ops! Marshall! Grazie, Chase. Parla Ryder. Ryder, sono Capitan Turbot. Il faro è pieno di centinaia di api ronzotti. Sembra un bel problema. Un grosso problema. Potreste darmi una mano a portare l'alveare fino al fruttetto del signor Al? Ci pensiamo noi. Tranquillo, niente è faticoso per un cucciolo coraggioso. Adesso è la casa dolce casa delle api. L'alveare si trova lì dentro. Usiamo l'affumicatore per calmare le api. Ci penso io. Io sono pronto nel caso debba usare la pompa per apprendarlo. Le api rimarranno tranquille per un po' di tempo. Eccola lì, l'ape regina. Se mettiamo la regina qui dentro, le altre api la seguiranno. Adesso manca solo il vostro bel alveare. Ecco qua. Sposteremo la scatola più tardi, quando tutte le api dormiranno. Ape che dorme, non punge pesci. Fai la nina, bella petta, non mi punger, per favore. Oh, che dolci. Facciamo piano. Bene, Sky, tocca a te. Prendiamo subito il volo. Cala il gancio qui sotto. In arrivo. Ottimo. Ecco fatto. Portalo via, Sky. Finalmente le api saranno felici di ronzare per campi pieni di broccoli. Beh, almeno a qualcuno piacciono i broccoli. Oh! Oh! Oh, oh. È la grande aquila. Mi ha preso di mira. Devo trovare una soluzione. Queste api contano su di me. Oh! Ho trovato! Tenetevi forte a fine! Grazie per il pesce, Wall-E. Quell'aquila avrà una bella storia da raccontare ai suoi amici. Sky, mettilo vicino agli altri alveari. Piano. Vai così. Perfetto. Grazie, Sky. Sicuramente alle api piacerebbe molto stare qui alla fattoria. Non c'è di che? Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo spostato l'alveare! In ogni occasione noi siamo a disposizione. Shh! Stanno dormendo. Adesso lascio che si ambientino e domattina aprirò le gabbie. Buongiorno, signor Al. Come stanno le nostre amiche ronzanti? Guardate! Forte! Li piace proprio quel melo. Sta giusto succhiando il nettare dai fiori del melo. Poi riporta il nettare raccolto all'alveare e lo trasforma in... Miele! Che cosa ne pensi, Ryder? Possono assaggiarlo? Beh, sono stati dei bravi cuccioli oggi. Chi vuole dei biscotti con del miele appena fatto? Che cuccioli! Bravi più che mai Ma adesso è tempo di giocare Adventure Bay Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-troll Stai tranquillo, Marshall. Abbiamo tantissimi biscotti qui.